Sarà Gianluca Lapadula a decidere la sua destinazione. Per la firma bisognerà attendere l'inizio della prossima settimana quando riprenderanno le trattative che comunque sono giunte all'ultimo stadio. Con tutte le pretendenti al capocannoniere della Serie B, il Pescara ha raggiunto degli accordi. Quale è quello che si formalizzerà? Lo rivelerà la volontà del calciatore anche se il Napoli, per stessa ammissione del presidente Daniele Sebastiani, è in vantaggio. Credo che sceglierà Napoli, ha affermato il numero uno bianco-azzurro. Proprio con il patron azzurro dell'Aurentis c'è stata ieri un'ulteriore e probabilmente decisiva accelerata. Il cartellino di Lapadula valutato sui 9 milioni più quello di Caprari, 3. 12 milioni di euro pronti ad essere versati per i gemelli del gol del Pescara con la promessa che Gianluca Caprari potrà restare un altro anno in rival adriatico in prestito. Lapadula proderà all'ombra del Vesuvio a rassicurarlo il tecnico partenopeo Sarri. È vero che davanti l'Apa avrebbe un mostro sacro come Guain, ma Sarri ha garantito un occhio di riguardo per un attaccante che sì deve ancora esordire Na, ma che nelle ultime due stagioni è stata una vera e propria macchina da gol. Nella trattativa potrebbe confluire il portiere Luigi Seppe, ex Virtus Lanciano, che il Napoli girerebbe una stagione in prestito. Restano a questo punto alla finestra le altre pretendenti, in particolare Juventus, Sassuolo e Genoa. La Juventus e il Sassuolo potrebbero condurre l'operazione in sinergia con la pagolla alla corte di Di Francesco in prestito dalla Juventus o diventando di proprietà del Sassuolo e stabilendo un diritto di ricompra a favore dei bianconeri. Per fronteggiare la partenza di Lapadula resta la suggestione Alberto Girardino, che ha però uno stipendio importante. Già detto nei giorni scorsi di Trotta del Sassuolo e Monachello dell'Atalanta, altro nome spendibile è quello di Federico Macheda, attaccante romano cresciuto nel Manchester United e ora di proprietà del Cardiff City, il quale aspetta l'opportunità di un rilancio dopo i tanti guai fisici delle ultime stagioni. Sempre ieri il presidente Sebastiani e il DS Inpectore Leone hanno incontrato la Roma per discutere di Alessandro Crescenzi e Daniele Verde, entrambi in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Fumata bianca per Crescenzi, che per una cifra sui 300 mila euro resta in bianca azzurro. Verde al momento tornerà alla Roma, poi si vedrà. Intanto la società ha ufficializzato sul suo sito che il ritiro precampionato inizierà a Rivi Sondoli il 14 luglio e fino al 22. Dal 22 luglio al 3 agosto la seconda parte a Palena, il 10 agosto l'amichevole dell'Adriatico Cornacchia, quasi certamente contro il Perugia, con presentazione della squadra.